Siamo in compagnia del sindaco di Ragalna, Salvo Chisari, al quale chiediamo innanzitutto sotto l'aspetto di questo terremoto del 6 ottobre i danni di Ragalna e come state agendo per porvi rimedio. Grazie a Dio non sono stati danni molto pesanti, ad essere colpiti maggiormente sono stati luoghi di culto, le due chiese che sono un po' più anzianotte nel territorio, mentre sulle abitazioni i danni sono stati molto relativi. Per quanto riguarda le chiese, a dirvi il vero, c'erano già due progetti perché c'era un bando di finanziamento per questo tipo di ristrutturazioni. Abbiamo aggiunto a questi due progetti, abbiamo fatto un aggiornamento con i danni che sono stati causati per il ripristino del terremoto e adesso abbiamo dovuto chiudere. I danni sono stati alle chiese ma soprattutto quello che ci preme in questo momento è garantire la sicurezza dei cittadini, tende che abbiamo dovuto chiudere una zona che è la piazza principale del nostro paese, perché abbiamo il campanile che è in imminente pericolo di crollo e quindi abbiamo dovuto mettere in sicurezza il tutto. Siamo in attesa di sviluppi perché come sicuramente saprete ieri c'è stato a Palazzo Chiggio un incontro con le amministrazioni che hanno avuto di questi problemi. Abbiamo spinto per avere dei tempi ridottissimi perché in questo momento la Galna purtroppo è un piccolo paese, non ha dei luoghi di culto. Siamo un po', diciamo, ci arrangiamo alla meno peggio. E come state ponendo rimedio? La gente dove va ammessa? La gente dove va ammessa per quanto riguarda la chiesa Santa Barbara, c'è il salone parrocchiale attaccato che abbiamo attrezzato alla meno peggio e lo stesso vale per l'altra chiesa in questo momento. Noi abbiamo messo a disposizione anche le strutture comunali, se dovesse occorrere, quello che è il centro di uno per gli anziani, altri luoghi dove si può comunque celebrare, ma chiaramente sono soluzioni di ripiego e tampone. Grazie a tutti.